Musica Bentornato Goodlier, bentornata Ti porto ora a conoscere un'altra sezione del pannello di controllo, l'audio Andiamo a vedere come interagire con le impostazioni audio del pannello di controllo Dovrai cliccare naturalmente su questo pulsante Quando hai cliccato sul pulsante audio si aprirà una schermata che può essere perfettamente identica o simile a quella sottostante Con diverse sezioni e diverse icone ed altri pulsanti per interagire con questa interfaccia Le sottosezioni saranno Riproduzione, per quel che riguarda l'ascolto audio Registrazione, per quel che riguarda gli input in ingresso da fonti audio La gestione dei suoni del sistema operativo E la gestione delle comunicazioni telefoniche Vediamo la prima sottosezione Qui, come visto nella immagine precedente, trovi evidenziati tutti gli altoparlanti collegati al computer Selezionandole uno con il mouse si evidenzieranno anche altri pulsanti che ti permetteranno di interagire con questa sezione In particolar modo avrai la possibilità di configurare questi altoparlanti Impostarli eventualmente l'uno o l'altro come predefinito Oppure andando a visionare le proprietà La configurazione è una piccolissima e rapida procedura guidata Che ti permetterà di, innanzitutto, visionare la struttura, la composizione del tuo impianto audio E verificare se puoi impostare una configurazione semplice a due altoparlanti stereofonici Fino alla classica configurazione Dolby Surround Nel caso in cui la tua postazione sia completamente multimediale e quindi dotata con N altoparlanti Durante questa procedura vedrai, come detto, selezionare la configurazione presente Ed eventualmente, cliccando sul pulsante Prova, testare la resa dei due o più altoparlanti presenti all'interno del tuo impianto Cliccando su Avanti porterai a termine la procedura guidata di configurazione degli altoparlanti Altra sottosessione nella sezione audio è quella dei livelli In questa sottosessione potrai impostare il valore del volume, quindi l'audio di ascolto Oltre che, naturalmente, avendo l'opportunità di variarlo tramite la manopola di regolazione degli altoparlanti stessi Qualora tu l'abbia E il corrispondente valore numerico sarà rappresentato in questa finestra Potrai attivare o disattivare, cliccando su questo pulsante, l'audio O, infine, cliccando su quest'altro, bilanciare il singolo canale, destra-sinistra Per una migliore ottimizzazione di ascolto Tale azione la puoi riferire per qualsiasi fonte audio in uscita dal computer Quindi, in base al numero di altoparlanti che hai Naturalmente, al termine di ogni selezione, per far acquisire tali parametro Dovrai premere sul pulsante OK La sottosezione registrazione, naturalmente, evidenzia tutte le periferiche che attualmente sono installate sul tuo computer E che abbiano la funzione di trasferire in ingresso ogni fonte audio Quindi, potrai avere diverse fonti Dal microfono, dagli ingressi delle linee Alla quale tu puoi collegare qualsiasi altra fonte audio Quali videoregistratori, telecamere, fotocamere e quant'altro In base alle necessità Naturalmente, il numero di icone dipende dal numero di ingressi Che presenta il tuo computer, come cabinet, quindi come scheda macro, oppure la scheda audio Selezionando l'una o l'altra periferica, potrai anche in questo caso Configurarla o impostarla come predefinita Oppure andare a visionare le proprietà In ogni sottosezione, potrai visionare le opzioni Che possono variare, naturalmente, da periferica a periferica E proprio per questo motivo Non è possibile evidenziare, durante questa lezione, in maniera assoluta Ciò che presenterà la schermata relativa al tuo computer Relativa alla tua configurazione Relativa alla tua scheda audio Tuttavia, possiamo dire, sostanzialmente, che se tu hai un microfono Potresti, ad esempio, impostare i parametri della sintesi Per riconoscimento vocale Nel caso in cui debba essere acquisita la fonte audio del parlato Regolare il volume del microfono stesso E attivarlo o disattivarlo Cliccando su questa icona Potrai altresì variare la qualità di acquisizione Quindi di registrazione Della fonte audio disponibile Ciò comporterà, naturalmente, degli effetti collaterali Quali sono? Naturalmente, è riferito al peso del file audio Che andrai ad acquisire In quanto migliore sarà la qualità dell'audio Maggiore sarà la pesantezza del file stesso In termini di kilobyte o megabyte C'è da dire che In tutte le impostazioni Qualora qualche pulsante non fosse attivo Il motivo può essere perché questa determinata periferica Pursa installata non è collegata al pc In qualsiasi caso, naturalmente, adatta le specifiche In base alle tue necessità In termini di impostazioni che andrai ad eseguire Per quel che riguarda la sezione suoni Ti ho detto che In questa sezione puoi gestire i suoni emessi dal sistema operativo Tramite la scheda audio Che ricordo, brevemente, può essere integrata nella scheda madre Oppure potresti avere una scheda audio dedicata Naturalmente più performante Come puoi vedere La sottosezione suoni Presenta diversi menu e diversi pulsanti Per ogni evento Che il sistema operativo Va ad affrontare Emette di norma un suono specifico Come ad esempio puoi notare All'avvio del sistema operativo Oppure alla sua chiusura O ancora svuotando il cestino In caso di una segnalazione di errore O variazione di sfondi Disconnessione o connessione udente E quant'altro La lista è abbastanza ampia Bene Potrai decidere Di configurare La combinazione di suoni In base al tuo piacere Come puoi fare? Puoi aprire questo menu a tendina E selezionare La configurazione di suoni Che più ti gratifica Dopodiché Cliccando sul pulsante Prova Potrai visionare Quanto hai selezionato Una volta selezionata La combinazione Di suoni Potrai impostare Per ogni evento Definito qualche riga fa Dicevo Potrai impostare Per ogni evento Un determinato suono A tuo piacere Potrai visionare Il singolo suono Da una lista Da un menu Proprio nella sezione suoni Infatti potrai Potrai scegliere Il tipo di suono Che potrai Andare a selezionare Per ogni tipo Di evento Ad esempio Per l'avvio Del sistema operativo O per qualsiasi Altro evento Potrai scegliere Da un menu Il suono Che più ti gratifica Potrai anche Caricarne Uno In formato MP3 O web Personalizzato Tramite il pulsante Sfoglia Per poterlo Far ascoltare Quando si verifica Quel determinato evento In questo modo Potresti riprodurre Una canzone All'avvio Del sistema operativo Oppure durante La procedura Di spegnimento Del pc Dopo che hai Cliccato naturalmente Sul pulsante Omonimo Ciò comporterà Che sia l'avvio Sia soprattutto La procedura Di spegnimento Sarà più lunga Della durata Naturalmente Del file audio Che avrai selezionato Per cui Se imposerai Una canzone Lunga Alcuni minuti Il computer Impiegherà Alcuni minuti Prima di spegnersi Ricordo brevemente Che Cliccando sul pulsante Prova Potrai ascoltare Tutta l'infinità Di suoni Selezionati Oppure File audio Che avrai caricato Al termine Dopo aver scelto Il suono Naturalmente Clicca pure Sul pulsante Ok Come avrai visto I suoni Del sistema operativo Sono altamente Personalizzabili Puoi divertirti Scegliendo Vari effetti Sonori Oppure Introdurre Dei commenti Voce Da te Editati Ma comunque Non ci perdere Naturalmente Troppo tempo Veniamo All'ultima Sottosezione Della sezione Audio Del pannello Di controllo E' quella Che riferita Alla comunicazione Questa Sottosezione Consente Di selezionare La regolazione Del volume Se utilizzi Lo stesso Per effettuare Delle telefonate Cosa accade Potrai decidere Nel caso in cui Tu debba fare una telefonata O riceverla Potrai decidere Di disattivare Completamente I suoni Emessi Qualora Qualora si presenti Qualche evento Oppure Far si che Non intervenga Il sistema operativo In ambito Di questi suoni Oppure Potrai Ridurre Il loro volume Di una certa Percentuale In base Alle tue Necessità Cliccando Naturalmente Su una Di queste Quattro Sezioni Ed infine Sul pulsante Ok A te La scelta Naturalmente In base Alle tue Condizioni Vediamo Goodlier Un po' Di pratica Sempre dal Pannello Di controllo Andiamo a Cliccare Sul pulsante Audio Dopo qualche Secondo Si presenterà Questa schermata Come puoi vedere Puoi selezionare I dispositivi Collegati Al Computer Una volta Selezionato Si abiliteranno Altri Pulsanti Con il pulsante Configura Potrai andare A selezionare Eventualmente Ce ne fossero Le opzioni Relative Alla tua Configurazione E Cliccando Sul pulsante Prova Andare a Testare La qualità Audio Desta Sinistra Come puoi Vedere Avviene Il test Sui due Canali Dopodiché Cliccando Su Avanti Potrai Impostare Eventuali Presenze Di Altoparlanti Particolari Nel tuo Impianto E potrai Terminare La Configurazione Oppure Potrai Andare A visionare Le proprietà Qui potrai Scegliere Di cambiare L'icona Se non ti piace Quella Presente Impostare I livelli Dell'altoparlante O cuffia Naturalmente Nel caso Fossi collegato Con la Cuffia Abilitare O disabilitare L'audio Cliccando Su questo Pulsante Bilanciare I due Canali Singolarmente Destra Sinistra Se Si presentasse Uno Squilibrio Qui c'è Una sezione Particolarmente Fornita Per i Cultori Eventualmente Del suono Audio Nella sezione Avanzate Invece Potresti Andare Ad impostare Il formato Dell'audio Emesso In modo Da Migliorare Eventualmente La qualità Audio Sempre Con il pulsante Prova Potrai Testare La qualità Al termine Delle impostazioni Naturalmente Dovrai Cliccare Su Ok Altra Sottosezione La registrazione Come puoi vedere In questo caso Che sto registrando L'audio Questo è il volume Impostato Per il microfono Che potrai Andare a Configurare In base Alla sintesi Vocale Qualora tu Lo utilizzassi Per una Registrazione Oppure Andare a Visionare Le proprietà Che come abbiamo Visto Qualche Secondo Fa Possono essere Replicabili In base Alla Variazione Dell'icona In base Al livello Di Registrazione Del microfono Stesso Oppure Impostare L'opzione Ascolta Il dispositivo Facendo In modo Tale Che Quando tu Parli Tramite Le casse Potrai Ascoltare La tua Voce Fai Attenzione A Non Stare Troppo Vicina Alle Casse Perché Si potrebbe Creare Un suono Particolarmente Sgradevole Che è Quello Del fischio In quanto Il tuo Parlato Dal microfono Uscendo Dalle Casse Potrebbe Rientrare Nuovamente Nel microfono E quindi Creare Un circolo Vizioso Tendente All'incremento Tale Che poi Porterà Al fischio Particolarmente Intenso Anche qui Nella sezione Avanzate Puoi Impostare Il valore Dell'audio Che andrai A registrare Ricordati Che però Una migliore Qualità Porterà Un maggior Peso Del file Che andrai A registrare Dal punto Di vista Audio A termine Anche qui Può cliccare Su Ok Stesso discorso Lo puoi Effettuare Per qualsiasi Altro Dispositivo Collegato Potrai Impostare L'uno O l'altro Microfono Se ce ne avessi Più di uno Come predefinito Andare a visionare Le proprietà E scegliere Le impostazioni Che meglio Credi In base Alle due Necessità Come sempre La sottosezione Suoni Ti permetterà Di scegliere La combinazione Che potrai Utilizzare E quindi Far sì Che il sistema Operativo Emetta Ad ogni Evento Eventi Che trovi Evidenziati In questa Sezione E che puoi Tranquillamente Ascoltare Cliccando sul pulsante Prova E che puoi Ulteriormente Decidere Di variare In base O alla lista Che si presenta Da questo menu Oppure tramite Il pulsante Sfoglia Andare a caricare Come detto Qualche minuto fa Andare a caricare Un qualsiasi File audio Una tua voce Un commento Una canzone Da poter replicare In base All'evento Che andrà A verificarsi Qui potrai Scegliere Di riprodurre O meno Il suono All'avvio Di windows Ultima Sotto sezione Quella delle Comunicazioni Che come detto Serve per far Sì che Nel caso in cui Tu utilizzi Il computer Per ricevere O inviare Telefonate I suoni Eventualmente Messi dal sistema Operativo Possono Essere Disattivati Completamente Ridotti Oppure Far sì Che Il sistema Operativo Non intervenga E lasciare Così Il suono Massimo Che avrai Impostato Al verificarsi Dell'evento Sta a te Decidere Se selezionare O meno Questa opzione Qualora Utilizzassi Naturalmente Il computer Per telefonare Ci vediamo Alla prossima Lezione Per continuare Questa lunga Maratona Sul pannello Di controllo Ora un forte saluto Ciao a presto Da Calio Dalla prossima